benvenuti a questo nuovo appuntamento a tutto motori siamo l'autosì concessionaria opel di reggio emilia i miei fratelli cerriotti oggi il tema della giornata il chilometri zero siamo a fine anno e quindi novità assoluta venite all'autosì a prenotare il vostro chilometri zero su misura sono qui di fianco a questa mocca x anche questa è possibile prenotarla chilometri zero visto che siamo a fine anno e sono gli ultimi giorni per poter rimatricolare una vettura con un prezzo scontato a vostro piacimento qui di fianco me la nuovissima opel car la potete prenotare a chilometri zero completa di tutto a 9.600 euro abbiamo già disponibilità di qualche vettura se non c'è il colore che vi piace potete sceglierlo a vostro piacimento qui invece siamo di fianco all'opel meriva sempre per quanto riguarda la disponibilità delle vetture gpl abbiamo diversi colori già disponibili 1400 turbo gpl una vettura veramente economica 17 18 euro con un pieno e fate 400 chilometri come prezzo siamo intorno ai 15 mila euro circa disponibilità appunto dicevo di vari colori qui venendo avanti la opel astra nuovissima qui abbiamo la possibilità di servirvi a piacere con un chilometri zero a vostra scelta basta che veniate entro la fine dell'anno a fare il vostro ordine abbiamo una buona disponibilità sia per quanto riguarda i motori diesel 1.6 110 e 136 sia per quanto riguarda i motori nuovi mille a benzina quindi venite perché la potete acquistare sia nella versione station wagon e sia nella versione berlina ad un prezzo veramente scontato e poi un po la macchina del momento qui avanti la opel ada riscoperta dal nuovo dalla nuova trasmissione televisiva di a casa di mica dove abbiamo pubblicizzato la vettura in diversi colori in diverse situazioni a partire da 11 mila euro vi offriamo la nuovissima adam 1200 a benzina colorata a vostro piacere voglio salutarvi qui di fianco la nuovissima mocca x che consiglio sempre di venire a provare qui da noi in via fratelli cerviotto a reggio emilia un augurio di buon natale e felice anno nuovo da marco colinelli e ci vediamo la prossima puntata